Veniamo al motivo per cui stiamo per vedere quello che è successo, il nostro social media manager. Vuoi dirci com'è andata? Prima di vedere quello che è successo o dopo? Intanto grazie per essere qua perché pensavo che di solito la gente poi se ne andasse dopo averlo incontrato, invece hai resistito. No, fortunatamente ho trovato il lato divertente di questo perché è bello trovare il lato divertente anche delle persone che rompono niente. I calcestruzzi. I calcestruzzi. No, niente. Vabbè, insomma, vediamocelo, vediamo a quali torture l'ha sottoposta il nostro Matto Marini. Non ci resta che rire. Sto a posto? Tutto c'è. Dobbiamo fare un po' di clip, è finito che provi, cioè sei mia, abbiamo questi dieci minuti? Sì. Allora, amo, il primo è semplice, ci vediamo il 27 maggio in prima serata su Rai 2. Ok. Mi dici pure il nome del programma? Da vicino a nessuno è normale. Da vicino a... Allora, ciao a tutti, ci vediamo il 27 maggio su Rai 2 con da vicino a nessuno è normale. Non riesco a parlare. Aspetta, ora te ne faccio una da vicino perché da vicino. Sì, ma faccio schifo. No, no, ma è proprio vicino. Al mio 3, eh. Ma faccio schifo. Uno, due. Ciao a tutti, ci vediamo il 27 maggio su Rai 2, da vicino, nessuno è normale. Sì, è bella, è bella. Allora, ora rimani qua, fai finta che stai per iniziare una prova, io giro intorno a te un secondo al volo. Ma non... No, no, devo solo fare un 360. Aspetta, non ti vedo, eh. Scusi. Vai. Sai che non l'ho registrata? Fa niente. Facciamo che la giro così perché ho paura che se giro io poi... Ok. No, no, tu rimani ferma. Bella questa quadratura, guarda. Bella. Ok, vediamo quali mi mancano. Ah, sì, domande. Numero preferito? 18. Me lo fai tra 1 e 10. Vado? Sì, sì. 4. Ma il 4 non l'aveva detto... Secondo me l'ha detto qualcuno il 4 ieri. È il mio. Fai da 1 a 5 e evitami 1, 2 e 4. Ok. Da 1 a 5, qual è il tuo numero preferito? Tranne 1, 2 e 4. 3. Dici 5, è più bella. Qual è il tuo numero preferito da 1 a 5? 5, ma perché? Eh, perché è tutte le manie della gente. Vai. 5. Eh? 5. Non so se si sente però, aspetta. Numero preferito? 8. Numero. Se lo fai con? 10. Ok. Ora, raccontami la tua mania più strana. Non possiamo avere la base tipo la noia? Casino? Ma no. Vabbè, te la faccio io. Ridimi la stessa roba. Ok. Carina questa. Vediamo se si sente. No, io senza morire. No, ecco, ho paura che non ci sente te sotto. No, si sente. No, si sente me che canto, guarda. Capisco perché. Ma io senza morire. Vedi, si sente più me. Aspetta, abbasso io la voce e tu alzala. Da terra. Vai. Uno, due, tre. È la cumbia della noia. È la cumbia della noia. Total. Total. È importante. Total. 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 Vedi insieme a me. Total. 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 Cerca di dirlo però quando dico io. Io dico quando faccio così con la mano. No. Aspetta che siamo... Vado? Vai. Total. Ok. Secondo me ce l'abbiamo? Sì, anche se l'abbiamo. Faccio un check con loro. Rimani qua? Ti trovo dopo? Domani sarà. Vai che... No, prendo l'uscita, prendo l'uscita. Vai. Ciao. Grazie. Mille. No, 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 vai. Quindi sto matto. Non lo vedo bene. Sei arrivata? Sì. Pensavo che stiamo andando tipo di là. Eri arrivata? Alla fine, sì, eri. Ma ero ipnotizzata in realtà. Era ipnotico. Pur non volendo... Amore, tu sei troppo gentile. La verità è che tu sei troppo gentile. Perché qualcun altro mi avrebbe menato. Infatti io ve lo dico, voi continuate a... Voi volete rischiare che me ne vanno. Prima o poi succederà. Cioè, voi state aspettando quello. E io sto qua. Ha fatto tutto quello che le hai chiesto. Ti è rimasto qualcosa di inespresso? No, la possiamo... Ma vogliamo fare un'ultima. No, non lo so se ci hai in mente... No, perché non so se il giro l'abbiamo completato. Magari ti prendo da lì. No, è venuto. Era benissimo. Era benissimo. Era benissimo. Anche secondo me è venuto.